Quello di Mirko Cudini è un foggia dai due volti e bastano due semplici statistiche per capire il perché. I rossoneri vantano la terza miglior difesa del campionato, ma allo stesso tempo contano sull'attacco meno prolifico, capace di realizzare finora soltanto 11 gol in 13 partite, stesso magro bottino di Brindisi, Catani e Giuliano. Da un lato quindi la solida difesa capace di uscire indenne dalle sfide contro le tre attuali potenze del girone C, ossia Juve Stabia, Benevento e Avellino, tre gare terminate 0-0, dall'altro appunto il poco feeling degli attaccanti con la porta, otto clean sheet ma anche sei partite senza gonfiare la rete, in questi due mesi di stagione è emersa una caratteristica importante. Il gruppo ha grande spirito di adattamento e questo non può che creare compattezza, Cudini lo sa e ha fatto della difesa 5 il suo cavallo di battaglia. I problemi nascono dalla tre quarti in su, la squadra fatica a concretizzare la buona mole di gioco che spesso viene creata, specialmente da esterni freschi e di corsa come Garattoni e Bezzoni. Embalo e Tonin sono la coppia di riferimento di un foggia spesso orfano di Beretta, con Tunkara non ancora al meglio delle sue possibilità e con la continua incognita per alta, non più titolarissimo come nella passata stagione. In classifica i satanelli sono decimi e in linea con l'obiettivo playoff, ma la vittoria manca dal 14 ottobre, ormai ben 5 turni fa. La solidità è un valore aggiunto ma bisogna cambiare rotta in termini offensivi per un foggia che vuole essere più ambizioso, serve ritrovare il feeling con il gol.